In Abruzzo resta stabile la popolazione anziana ma aumentano anche i nuovi nati e soprattutto i nuovi poveri. Rilevante la crescita dell'istruzione, compresa quella universitaria. Sono questi dati salienti che riguardano l'indagine demografica effettuata dalla Regione. Ad illustrare i numeri è stato l'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco che ha parlato anche dell'aumento dei cittadini e delle imprese straniere. Numeri che inducono la Regione a mettere oggi in campo nuove politiche di welfare. Aumenta anche purtroppo la povertà e non è più possibile pensare ad un fenomeno dei nuovi poveri. In realtà la povertà aumenta e non è più un fenomeno. È necessario che i decisori politici possano fare politica e programmare strumenti di regolazione sociale, in questo caso sociosanitaria, partendo da questi dati. Cioè che la popolazione in Abruzzo e in Vecchia rimaniamo tra le prime regioni per quantità di anziani, ma che c'è una ripartenza delle nascite. Quindi tra i 0 e i 3 anni c'è un incremento importante e quindi è necessario fare politiche di attenzione all'infanzia. C'è una diffusione dell'istruzione ormai alta, anche universitaria, ed è importante che la politica risponda a questo, diciamo cercando di far unire, di mettere in connessione l'università con il mondo del lavoro. Inoltre è necessario anche riprogrammare il terzo settore. Con questi numeri, Assessore, bisogna rivedere anche un po' le politiche di welfare. Sì, è quello che stiamo facendo. Purtroppo in 16 anni non è stato preso in mano il welfare da nessuno. In 16 anni è mancata in Abruzzo una qualsiasi legge sul welfare. Non c'è una legge quadro, non c'è una legge sui giovani, non c'è una legge sulla non autosufficienza. Insomma, non c'è l'integrazione sociosanitaria. E' proprio per questo che ho dato vita a queste linee guida, cercando in tutti i modi di dire sul territorio, di dire a tutti di mandarmi delle osservazioni o dei contributi alle linee guida che sono disponibili sul sito, affinché si possa riprogrammare il welfare, grazie anche a questi strumenti di ricerca, e si possa riprogrammare il welfare in maniera condivisa.